Libertà ragazzi, allora, ciao ragazzi, sono c'è il video, oggi siamo di nuovo qui con quest'ultimo episodio della Yokebox, beh, non ultimo, ultimo, ultimo per oggi in cui andremo a casa e proveremo tutti gli scroll, che la casa dovrebbe essere per dirà Ok, abbiamo raggiunto la casa, che non l'hanno ancora demolita, mi sembra, sì, no, non l'hanno ancora demolita, per fortuna Ciao, coniglio Allora, direi che possiamo... Allora, questi qua sono dovrebbero dei portali che ci portano, non in altre dimensioni, ma semplicemente in altri luoghi strani e lontani Allora, mettiamo via tutte queste cose qua E proviamo gli scroll, un attimo Ok, vediamo un pochino No, cosa sto facendo? E' che sono abituato al Minecraft, quello di adesso, questo è vecchissimo Ok, prendiamoli tutti Sono cinque Mi sembra che ti diano tipo dei poteri Allora, il nature Che fa? Oh caspita! Mamma mia, mi ha fatto spaventare a morte Ah, spawna un animale Mi sa che spawna sempre soltanto maiali Boh Ah, fa crescere anche l'erba Boh Non funziona più Poi c'è il langer L'ho mangiato Ah, questo ti ricorda la fame Ok Quindi c'è la fame che si può rigenerare, giusto? Adesso non ho più, non so perché Poi c'è questo che... Caspita è Il bonch Bonch! Paciam! Che cosa fa? Maialino, testa il bonch Boom, è forte Adesso però voglio un altro maialino Non crea più maialino Non mi dà più da mangiare sto cosa Questo mi dà velocità E potenza Ah, questo c'è un uso Questo invece Esatto Ma ci sono bagatti o cosa? Non funziona più Questo invece cos'è? Il vampiric Ah, spara E cosa? E perché? Cosa? Sto morendo di fame ma non mi succede niente Ok, maialino, testa di nuovo Il vampiric Fa male Anche lui Ok, adesso ci sono baggati Perché un attimo fa funzionava Adesso non funzionava più E come mai? Forse è meglio riavviare un attimo il gioco Ok, allora Questo qui non funziona più Ok, mi sono spaventato Questo Salve Un off player damage Un off player damage Ma che è? È un pig Si è bagatissimo È un pigman Strano Non lo so Oh, calmati Aiuto Fuata Oh, non spara più Si sono rotti tutti questi stupidi pezzi di carta qui Ah 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 Funziona ancora a malapena Però funziona Ok, io sono morto No Sono qua giù No È la mia spada Devo ritornare a casa Non ne voglio C'ho almeno un piccolo Sì Però c'ho questo Oh, suona pure il citofono Vabbè, torno a casa da sola E noi ci vediamo al prossimo episodio